Buongiorno consiglieri, si riprende la seduta del 29, sono le ore 11.09. Appello. Teresi, assente. Aiello, assente. Altadonna, assente. Cavaliere, assente. Di Gesù, assente. Figuccia, assente. Lo Sardo, presente. Lucido, assente. Palazzo, assente. Stabile, assente. Presidente, nove assenti e un presente. Quindi un presente soltanto, quindi non siamo assolutamente in numero legale e quindi la seduta non può riaprirsi. La seduta riprenderà domani mattina alle ore 9.30. Seduta di prosecuzione. Buongiorno a tutti, buongiorno agli uffici e grazie per la collaborazione. Ok, grazie. Arrivederci.